Presentato presso la sede della Camera di Commercio di Taranto, Coaturier, il primo evento sulla moda organizzato in Valle d'Itria. Dopo la crisi degli anni 2000, lo stop forzato a causa della pandemia, il comparto manifetturiero è pronto a ripartire. E lo fa con un evento che metterà insieme imprenditori, esperti, giornalisti e buyer internazionali. Attraverso talk, sfilate e workshop si punterà ad uno scambio di know-how in materia di sostenibilità e innovazione, conservando i capisaldi del cosiddetto Made in Italy. Ho fatto un plauso sicuramente anche all'inventore di questa iniziativa del genio che, diciamo, dal lustro non solo a Martina, ma dal lustro all'intero territorio, dal lustro anche all'intera provincia. Per cui si riparte con questa iniziativa subito dopo l'estate che vedrà poi avvicendarsi tutta un'altra serie sempre di iniziative collegate sia al settore tessere ma anche ad altro. Questo io la vedo anche come un buon auspicio perché questa città, questa provincia Martina possa veramente, diciamo, lasciarsi alle spalle questo momento terribile che abbiamo vissuto. L'evento è stato organizzato da CNA Federmoda Puglia e si terrà a Martina Franca in diverse location dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi. Proprio attraverso questa iniziativa e il ricollocamento o il rafforzamento del collocamento delle nostre imprese all'estero, noi dobbiamo raggiungere il duplice obiettivo. Uno, di continuare ad avere una produzione green del fashion nel nostro distretto. L'altro, di rilanciare l'intero meridione attraverso l'azione dell'ICE in questo campo.